Non c'è nessuna epidemia di meningite in Sicilia, quanto dichiara l'assessorato regionale alla salute che consiglia di aumentare il più possibile la copertura vaccinale. Il vaccino tetravalente sarà gratuito a tutti i giovani siciliani dai 12 ai 30 anni. A rischio i fondi per il trasporto e l'assistenza igienico-sanitaria degli studenti disabili, a comunicarlo ieri sera in aula all'Ars, l'onorevole Orazio Ragusa, la conferenza unificata ha deciso di destinare le somme soltanto alle regioni a statuto ordinario. Prosegue l'attività del Consiglio Comunale di Vittoria, il Presidente del Consesso ha convocato le commissioni ancora da completare per alleggere i presidenti e i vicepresidenti. Intanto l'assessore al bilancio annuncia delle variazioni. Tutto pronto per il Festival della Canzone Città di Mascaluccia, l'evento che si svolgerà venerdì e sabato prossimi. L'evento sarà presentato da Flaminia Belfiore e permette di dare risalto e importanza mediatica agli artisti emergenti nazionali e internazionali. Un saluto dalla redazione, bentrovati ad un nuovo appuntamento con informazioni su video mediterraneo. In apertura parliamo di meningite, aumentare il più possibile la copertura vaccinale contro la meningite. Così l'assessorato regionale alla salute risponde all'allarme meningite diffuso nella penisola e ai due casi accertati in Sicilia dall'inizio dell'estate. Ma sottolinea anche che non c'è nessuna epidemia. Tutti i dettagli da Viviana Sammito. La regione siciliana corre ai ripari per prevenire altri casi di meningite nell'isola. Oltre ai due già accertati lo scorso mese che hanno portato al decesso di una ragazza, una 23enne di Belmonte Mezzagno, Gloria Giulia Allotta, morta dopo qualche giorno di ricovero, mentre è riuscita a osservarsi la giovane cameriera 22enne originaria di Porto Empedocle, residente nel capologo siciliano. Il caso più recente è quello di un 28enne nisteno ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta che risponde bene alle cure. L'assessorato regionale all'assoluto ha disposto i vaccini gratis per i giovani dai 12 ai 30 anni in tutta l'isola e poi ha voluto con una circolare rassicurare ai cittadini. Non c'è nessuna epidemia. L'assessorato ha deciso di estendere ai giovani il vaccino gratuitamente perché appartengono alla fascia più a rischio. Il vaccino sarà disponibile in tutti i centri vaccinali dell'isola dove basterà presentarsi con la testera sanitaria e anche chi non rientra nella fascia a costo zero potrà richiedere il siero dietro pagamento di un contributo. Il virus si diffonde attraverso le secrezioni per via aerea, ha spiegato Merto Tozzo, direttore del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatore Epidemiologico dell'assessorato. E' quindi più facile che i luoghi affollati come pub e locali notturni possa diffondersi. Il numero di casi riportati dalla cronaca, ha spiegato Tozzo, è dovuto ad un abbassamento della copertura vaccinale. Prima, sottolinea, c'era una sorta di effetto gregge per cui, anche se il virus c'era, non si diffondeva perché la maggior parte della popolazione era vaccinata. Adesso che il numero delle vaccinazioni è calato, i virus hanno più facilità a diffondersi e questo è il risultato. Il consiglio sarebbe quello di vaccinarsi tutti, anche perché la somministrazione del siero non ha controindicazioni. E sulla possibilità che i casi di meningite siano legati alla presenza di migranti, il dirigente dell'assessorato non ha dubbi. La meningite è una malattia fulminante. Queste persone arrivano da noi sane o al massimo con patologie legate all'assenza di igiene e di pulizia, in cui sono costrette a viaggiare. Se avessero la meningite non avrebbero scampo. Tra i fattori di rischio per lo sviluppo della malattia ci sono l'età. La malattia colpisce soprattutto i bambini sotto i 5 anni, i giovani tra i 18 e i 24 e le persone anziane. La vita di comunità. Le persone che vivono e dormono in ambienti comuni, come gli studenti nei dormitori universitari o i militari in caserma, hanno un rischio più alto di essere infettati da meningococco. La gravidanza. La donna in attesa è più soggetta di altre alla Listeriosi, una delle possibili malattie che degionano le meningite. Andiamo ai lavori d'aula. L'Assemblea regionale siciliana si è parlato ieri sera di edilizie, scuola e disabili. Durante i lavori è stato poi ufficializzato lo scioglimento del gruppo Lista Musumeci. Sentiamo. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il testo unico per l'edilizia che non comprende l'emendamento sulla sanatoria per le case realizzate tra il 1976 e il 1991 entro 150 metri dalla battigia. Su 61 deputati presenti in aula, 60 hanno votato a favore ed uno contro. Il DDL è composto da 30 articoli e regolamenta la materia dell'edilizia nell'isola. Dopo 15 anni la regione siciliana recepisce il testo unico dell'edilizia. Anche la Sicilia dunque entra a far parte dell'Italia nel campo delle costruzioni. Non possiamo che essere soddisfatte, ha dichiarato il presidente di Ance Sicilia, Santo Cutrone. Adesso la palla passa alle pubbliche amministrazioni a cui spette il compito di applicare nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme. L'Ars ieri sera ha anche approvato la mozione presentata dai parlamentari del gruppo del Partito Democratico che impegna il governo regionale ad attivare, in sintonia con quello nazionale, una serie di iniziative relative al settore della scuola. In particolare, nella mozione si chiede di attivare ogni iniziativa utile al mantenimento dell'unità dei nuclei familiari, evitando trasferimenti di docenti da sud al nord e facendo in modo che chi è già stato trasferito possa tornare in Sicilia. L'Assemblea regionale siciliana ieri ha anche affrontato il problema dei fondi per il trasporto e l'assistenza igienico-sanitaria degli studenti disabili. Dal verbale della conferenza unificata del 21 luglio scorso, lo Stato ha predisposto per il 2016 un contributo di 70 milioni di euro previsto per l'assistenza agli studenti disabili, ma solo per le province delle regioni a statuto ordinario, escludendo di conseguenza la Sicilia che è a statuto speciale. L'argomento è stato sollevato ieri in aula dal deputato regionale dell'Udc Orazio Ragusa. L'ex provincia regionale sta cercando di adottare ogni misura finanziaria per reperire le risorse economiche, ha detto Ragusa, necessarie nel tentativo, alquanto disperato, di portare in pareggio il bilancio 2016. È anche vero che in commissione bilancio all'ARS c'è il DDL che dovrebbe assicurare le variazioni necessarie per impinguare le casse dell'ex provincia, ma senza l'aiuto dello Stato verranno comunque a mancare i soldi necessari per il trasporto e l'assistenza igienico-sanitaria degli studenti disabili. Per non parlare in più della tutela del personale dipendente che verrebbe meno, chiediamo al Presidente della Regione, all'assessore regionale all'economia Baccei, conclude Ragusa, di rivolgersi al Governo nazionale per modificare l'esito della conferenza unificata e fare in modo che le risorse stanziate possano essere destinate anche alle regioni a statuto speciale. Intanto ieri è stato sciolto il gruppo parlamentare Lista Musumeici, che resta congelato al momento per cinque giorni. Lo scioglimento era stato annunciato in aula dal Presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, che ad inizio seduta ha ricordato le dimissioni del deputato Gino Ioppolo, eletto sindaco di Caltagirone, spiegando dunque che il gruppo è stato cancellato d'ufficio. Dopo le dimissioni di Ioppolo sono solo due i componenti del gruppo Lista Musumeici, cioè Nello Musumeici, a capo dell'opposizione, e il parlamentare regionale Santi Formica. Ai gruppi composti da meno di tre deputati non può essere data nessuna autorizzazione, ha detto Ardizzone. Così da ieri Musumeici e Formica fanno parte del gruppo misto, mentre al posto di Gino Ioppolo dovrebbe subentrare Alfio Barbagallo, il primo dei non eletti nella lista Musumeici. Restiamo sempre a Palermo, perché l'accordo raggiunto tra PD e Forza Italia in commissione all'ARS potrebbe comportare novità importanti nella legge elettorale per i comuni. Niente più ballottaggi, verrebbe eletto sindaco il più votato al primo turno, quale è che sia la percentuale dei consensi. Confermato invece il premio di maggioranza? Si potrebbe definire paura delle stelle, di cinque stelle. Mentre a Roma tutti quelli che avevano votato l'Italicum hanno scoperto, dopo le ultime amministrative di giugno, che la legge finora mai applicata va subito cambiata, anche in Sicilia si parla di legge elettorale. Non di quella regionale a turno unico, ma di quella per i comuni con più di 15.000 abitanti, che, prima e unica vera riforma istituzionale italiana, partita proprio in Sicilia nel 1993, ha introdotto l'elezione diretta dei sindaci, con doppio turno nel caso in cui nessuno dei candidati superasse il 50% dei voti. Il Movimento 5 Stelle a giugno scorso ha vinto 19 ballottaggi su 20, ed ora gli altri due schieramenti corrono ai ripari. PD e Forza Italia hanno raggiunto un accordo nella Commissione Affari Istituzionali dell'ARS per le seguenti modifiche. Abolizione del ballottaggio, trascinamento del voto di lista in favore del candidato sindaco e possibilità del terzo mandato per i primi cittadini. Confermati invece lo sbarramento al 5% e il premio alla lista o gruppo di liste che raggiungono il 40% in Consiglio Comunale, un bonus cospicuo del 20% capace di dare un'ampia maggioranza consigliare. Se nessun partito o coalizione dovesse raggiungere la soglia, la composizione del consesso sarebbe proporzionale. Queste modifiche contenute in un emendamento hanno già avuto il voto favorevole in Commissione. Ora toccherà all'Aula e secondo il calendario stilato dalla conferenza dei capigruppo, il voto dovrebbe esserci la prossima settimana, prima della pausa estiva. Se la nuova legge passasse già sarebbe applicata il prossimo anno, quando si voterà anche nella maggiore città dell'isola, Palermo. L'esito in Aula Palazzo dei Normanni dipenderà dal grado di tenuta dell'accordo tra PD e Forza Italia, che sulla carta dovrebbero avere i numeri. Ma l'intesa è subordinata alla rinuncia da parte di Forza Italia alla norma sul condone edilizio. Tutt'altra materia, ma il pacchetto dell'intesa è ricco e vario. Per la cronaca, anche dal fronte del Movimento 5 Stelle, si registra una proposta di eliminazione del voto di ballottaggio, ma a condizione che il candidato più votato raggiunga almeno il 35%. PD e Forza Italia non vogliono invece alcuna soglia. Sono in mobilitazione lavoratori delle cooperative sociali a Catania, così come i dirigenti scolastici e le famiglie dei ragazzi con disabilità, dopo la decisione della Regione di tagliare i fondi per l'assistenza igienico personale e per quella alla comunicazione. Sentiamo Sara Don Zufo. Annunciano la mobilitazione i lavoratori delle cooperative sociali, i dirigenti scolastici, ma soprattutto le famiglie degli alunni con handicap grave contro le mancate risposte la città metropolitana di Catania sui servizi di assistenza per i ragazzi con handicap delle scuole superiori della nostra città per l'anno scolastico 2016-2017. Infatti la Regione ha tagliato i fondi che riguardano proprio l'assistenza igienico personale, richiedendo ai Bitelli di ricoprire un ruolo che non è consono alle loro mansioni e soprattutto verranno tagliati i fondi anche per l'assistenza alle comunicazioni. Esattamente. Per quanto riguarda l'assistenza igienico personale, la Regione, almeno fino a quando noi siamo stati anche in commissione, ha dichiarato di non avere fondi per poter continuare questo servizio. Per quanto riguarda l'assistente alla comunicazione, si aspettano dei fondi da Roma che non si sa se arrivano e quindi sono a rischio entrambi le figure. E noi famiglie naturalmente non possiamo mandare i nostri ragazzi a scuola. Un problema per le famiglie ma anche un problema per i lavoratori perché a rischio ci sono decine di centinaia di posti di lavoro. Il governo regionale con una norma lede un diritto di continuità lavorativa ai lavoratori e soprattutto azzera l'assistenza ai ragazzi disabili che in questi anni sono stati sempre assistiti con professionalità dagli operatori. Noi vogliamo che il governo regionale cassi il comma 10 della finanziaria regionale, ripristini tutto e crei le condizioni affinché il servizio a settembre riparta con gli operatori e con l'accredito delle cooperative. Immobilizzazione ai lavoratori, famiglie ma anche le cooperative in attesa di un incontro dalla parte delle istituzioni? Sì, purtroppo abbiamo notato che un sistema che ha finora funzionato, questo dell'ex provincia per l'assistenza ai ragazzi disabili delle scuole superiori, è stato nei fatti smantellato da un regolamento che noi riteniamo debba essere ritirato e da tutta una serie di problematiche derivanti da questo regolamento. Da Catania ci spostiamo a Pozzallo, occuperanno lunedì prossimo il comune i lavoratori della cooperativa Beautiful Days che non percepiscono lo stipendio da due anni. Ieri infatti l'annunciata conferenza di servizio che si doveva tenere a Palazzo Lapira è saltata per l'assenza del segretario generale che deve emettere i mandati. Non si è tenuta la conferenza di servizio prevista per ieri pomeriggio al comune di Pozzallo tra il sindaco Luigi Ammatuna, i lavoratori della cooperativa Beautiful Days e il segretario generale. L'incontro è saltato, scrive il rappresentante legale della cooperativa Giovanni Salerno per l'assenza del segretario generale che doveva essere presente appunto alla riunione. Il rappresentante legale della cooperativa, che gestisce una comunità alloggio per disabili psichici a Pozzallo, aveva in un primo momento dichiarato l'occupazione di Palazzo di Città. Occupazione che era stata revocata alla luce della conferenza che si doveva tenere appunto ieri pomeriggio. Alla base della protesta ricordiamo il mancato pagamento degli stipendi da ormai due anni che mette a serio rischio la prosecuzione dei servizi e intere famiglie. I soldi, aggiunge Salerno, sono stati già mandati dalla regione nelle casse comunali così come si evince dal decreto emanato dall'assessorato regionale alla famiglia. I mandati infatti al momento sono rimasti bloccati nelle casse di Palazzo Lapira in attesa di una firma per emettere i pagamenti da parte del segretario generale, più volte contattato dalla cooperativa ma senza esito positivo. La Beautiful Days dunque revoca la sospensione dell'iniziativa di occupazione ed indice un sit-in di protesta assieme ai lavoratori per lunedì prossimo giorno 8 agosto alle 9 davanti Palazzo di Città. Avertenza SPM, la CGL ha rappresentato all'amministrazione comunale di Modica due ipotesi di lavoro che potrebbero essere messe in atto a favore della società per scongiurare il licenziamento collettivo. La prima riguarda la riduzione del costo del personale privilegiando esclusivamente un apposito piano di accompagno alla quiescenza del personale che nei prossimi due o tre anni matureranno i requisiti previsti per la pensione. La seconda ipotesi invece è quella di una sorta di ristrutturazione societaria con la finalità di risparmiare e produrre economie attraverso una riconfigurazione del rapporto tra comune e società. È intenzione dell'amministrazione, scrive Terranova, segretario della Camera del Lavoro di Modica, promuovere un consorzio tra comune ed SPM per dar vita ad una nuova società che consente di abbattere i costi fiscali a carico dell'ente comune. A questa nuova società avrebbero trasferiti i servizi e il personale eccetto il servizio del depuratore che dovrebbe rimanere alla SPM. La CGL è disponibile da subito alla formalizzazione dell'accordo. C'è la cronaca. Un sequestro di 44 milioni di euro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Catania, William Alfonso Cerbo, affiliato del clan mafioso dei Mazzei. Cerbo si trova agli arresti domiciliari per i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Beni per circa 44 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania ad un presunto affiliato del clan Mazzei, William Alfonso Cerbo, 34enne, attualmente agli arresti domiciliari e imputato per i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Interessate al sequestro sono state le quote societarie di 20 aziende, 30 beni immobili in diverse regioni d'Italia, riconducibili a Cerbo ed orologi di pregio, il tutto appunto per un valore complessivo di circa 44 milioni di euro. Tra gli immobili sottoposti a sequestro è anche la villa di Cerbo, che per quanto emerso durante le indagini, il giovane voleva ristrutturare, rendendolo il più possibile simile a quella del film Scarface. I militari hanno eseguito un non provvedimento emesso al Tribunale di Prevenzione di Catania, a seguito di indagini sull'organizzazione mafiosa delegata alla Procura Distrattuale Antimafia alle Fiamme Gialle. Fermati dalla squadra mobile di Ragusa, quattro scafisti che hanno condotto tre gommoni con a bordo 373 migranti, giunti ieri al porto di Pozzallo. Tra di loro anche un libico ferito ad una coscia da colpi di arma da fuoco, una ferita però non collegata all'attraversato, alla permanenza nei bunker in Libia, ma causata da una lite per futili motivi avvenuta due settimane prima del viaggio. Sono quattro gli scafisti fermati stamani, un 27enne del Bangladesh, un 18enne del Gambia, due ventenni della Guinea e del Senegal. Sono loro, secondo le indagini e le testimonianze dei migranti, ad avere condotto i tre gommoni con a bordo 373 migranti arrivati ieri mattina alle 9.30 al porto di Pozzallo con la nave della Marina Militare Fiorillo. Un migrante è arrivato con una ferita da colpi di arma da fuoco sulla coscia, ma nulla c'entra con la permanenza nei bunker in Libia, con la traversata. L'extracomunitario è stato ferito due settimane prima della partenza nel corso di una lite per futili motivi ed è per tale ragione che ha deciso di scappare in Europa. Per i fatti accaduti in Libia e non connessi ai fenomeni migratori e quindi agli scafisti, lo Stato italiano non ha competenza, pertanto il giovane è stato condotto in ospedale, curato e dimesso dopo poche ore. Sono stati altri cinque ricoveri in ospedale, due donne incinte a modiche e tre per malessere generale a Ragusa. Nel 2016 sono 112 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. Lo scorso anno la polizia giudiziaria ne ha arrestati 150. Questa mattina i carabinieri della stazione di Modica hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di Rajib Mia, 21 anni, del Bangladesh, già noto alle forze di polizia. L'uomo infatti è responsabile del reato di detenzione, infine di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Scoglitti nell'agosto del 2012, quando nel corso di un predisposto servizio antidroga, svolto appunto dai carabinieri, venne sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, trovato in possesso di circa 100 grammi di ascis. Al termine delle formalità di rito, i militari dell'arma hanno notificato l'ordinanza all'uomo e poi lo hanno condotto presso il carcere di Ragusa, dove dovrà espiare la pena di un anno di reclusione. Tre ambulanti del mercatino del lunedì in piazza Antonello da Messina a Marina di Modica sono stati sanzionati e diffidati dal reiterare il loro comportamento non consono al senso civico e al rispetto dell'ambiente. La polizia locale di Modica infatti ha accertato che i tre avevano abbandonato sul posto rifiuti di vario genere, soprattutto frutta e verdura inutilizzabile e resti di prodotti ittici. La ditta Puccia intanto è stata costretta di intervenire immediatamente per ripurire la piazza e riportare la dignità sul posto. Andiamo a Modica, è tornato a riunirsi dopo tre rinvii il Consiglio Comunale ieri sera approvato il regolamento Aro e presentate le interrogazioni, tra cui quella del Consigliere Comunale Michele Polino sui lavori della rotatoria in Contrada Serrapeno. Dopo tre rinvii ieri sera il Consiglio Comunale di Modica è tornato a riunirsi. È stata approvata la delibera di giunta sul regolamento dell'Aro che ha visto l'astenzione dell'opposizione. Il regolamento è stato approvato così come obbliga la Regione. La discussione è poi proseguita con l'interrogazione del Consigliere Michele Polino su come siano stati eseguiti i lavori della rotatoria di Contrada Serrapeno a Modica. Polino ha comunicato al Sindaco Abate di aver presentato un esposto alla Procura di Ragusa per capire come sia stata realizzata e se fossero state rispettate le norme di legge. Polino ha sottolineato anche che l'opera è importante e fondamentale per la Contrada, i cui residenti da anni la attendevano. Ma il Consigliere Comunale ha aggiunto voglio vedere gli atti relativi alla rotatoria, aggiungendo nel suo intervento in aula perché non sia stato possibile inoltre accedere agli atti relativi all'opera. Il Sindaco Abate nel suo intervento ha dichiarato che non ha nessun obbligo di rispondere in Consiglio in quanto c'è un esposto in Procura e solo in quella sede, se gli sarà chiesto, risponderà. Sull'argomento si è registrato anche l'intervento del Consigliere Comunale di Selle, Vito D'Antona. D'Antona ha dichiarato che la rotatoria era un'opera indispensabile, ma che allo stesso tempo è necessario approfondire la questione. Il Consigliere di Selle dunque ha chiesto al primo cittadino di comunicare alla Pio, il cui rientro è previsto per giorno 11, di redigere una relazione dettagliata su come si è proceduto alla realizzazione della rotatoria da inviare entro e non oltre il 16 agosto prossimo ad ogni Consigliere Comunale. La richiesta di D'Antona è stata accolta favorevolmente sia dal Consigliere Polino che dal Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Garaffa. Quest'ultimo, intervenuto sull'argomento, ha chiesto al Sindaco Ignazio Abbate di chiamare urgentemente la Pio e di autorizzare un suo sottoposto affinché il Consigliere Michele Polino potesse accedere agli atti entro oggi stesso. Se questo non dovesse succedere, ha aggiunto Garaffa, scatterà un'ulteriore denuncia perché il Sindaco ha dichiarato a prescindere l'esposto in procura ha il dovere di produrre gli atti e metterli a disposizione. Alla richiesta di Garaffa il Sindaco non ha risposto. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale ha messo agli atti di prendere il silenzio del Sindaco come un consenso. E andiamo a Vittoria. Prosegue l'attività del Consiglio Comunale. Il Presidente Nicosia ha convocato le commissioni ancora da completare per eleggere i Presidenti e i Vicepresidenti. Intanto l'assessore al bilancio annuncia delle variazioni al bilancio appunto predisposto dalla precedente amministrazione. Accelera il Presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Andrea Nicosia che ha convocato prima della pausa estiva le commissioni per eleggerne i vertici. La Commissione Affari Generali ha eletto Salvo Salemi di Selamila Cambi, Presidente, Rosa Maria Mazzone di Riavvia Vittoria e il suo Vice. Salemi, consapevole dell'importanza che rivestirà, ha garantito che opererà in stretta sinergia con la Presidenza del Consiglio per calendarizzare di volta in volta gli argomenti più importanti. Inoltre, considerando l'arretrato accumulato evidenzia, la commissione si riunirà tutte le settimane. Ancora da completare le commissioni assetto del territorio, trasparenza e cultura, quest'ultima si riunirà l'8 agosto. La maggioranza dunque sinora ha eletto i propri consiglieri ai vertici delle varie commissioni. Pienamento operativa alla commissione bilancio che aveva già eletto Monia Cannata e Agatha Iacquez rispettivamente Presidente e Vicepresidente. Elezione che consente all'assessore Arramo di apportare variazioni sul bilancio approvato dalla precedente amministrazione. Una attenzione particolare ai servizi sociali, alle scuole, alle piccole e medie imprese, quindi allo sviluppo economico. Un'attenzione particolare a 360 gradi. Cercheremo di fare dei tagli agli sprechi, alle spese inutili che non servono, per dare alla città di Vittoria tutti quei servizi che magari in questi anni non sono stati possibili farli per colpa di tanti sprechi che sono stati fatti. Quest'anno, in estate, come vedete, abbiamo fatto un bel programma estivo, magari abbiamo invitato qualche cantante di fama nazionale, ma abbiamo ottimizzato la qualità dei nostri artisti locali, ma stiamo cercando di ottimizzare quelli che sono i servizi di ordine all'amministrazione. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, tutto pronto per il Festival della Canzone Città di Masca Lucia, l'evento che si svolgerà il prossimo venerdì e sabato verso il Parco Trinità Amanenti, un'occasione che permette di dare risalto e importanza mediatica agli artisti emergenti nazionali e internazionali, presentato da Flaminia Belfiore, il festival con ingresso libero è organizzato dall'associazione Blue Sound 2 con il suo presidente Giovanni Ali e il fondatore Maurizio Casella e con il coordinamento di Gina Aloisio. Si svolgerà il prossimo 5 e 6 agosto l'undicesima edizione del Festival della Canzone Città di Masca Lucia presso il Parco Trinità Amanenti proprio nella piccola cittadina Fedemontana, un evento che permette di dare risalto a importanza mediatica agli artisti emergenti nazionali e internazionali, presentato da Flaminia e Belfiore il festival con ingresso libero è organizzato all'associazione Blue Sound 2 con il suo presidente Giovanni Ali e il fondatore Maurizio Casella e con il coordinamento di Gina Aloisio. E' un evento che noi comunque l'abbiamo fatto lo continuiamo a fare perché cerchiamo di mettere in luce questi nuovi giovani e i ragazzini. Due giornate dedicate alla musica e alla canzone quattro categorie e poi l'esibizione di Mariella Nave un'occasione anche per stare insieme e per parlare anche di beneficenza. Sicuramente quest'anno abbiamo inserito un'altra categoria perché riguarda la fascia A e B degli inediti che lo scorso anno non ci avevamo. 47 artisti provenienti dalla Sicilia da altre parti Italia e da Malta che si esibiranno giorno 5 e giorno 6. Siamo contentissimi di essere qui con voi quest'anno abbiamo 8 studenti che sono venuti e sono eccitatissimi e felicissimi di essere qui e speriamo che sia un'esperienza che è una conoscenza che dura e un gemellaggio che dura anche di più in tempo. non solo Malta non solo Sicilia ma anche la Toscana anche la Toscana presenti quindi abbiamo diversi ragazzi che hanno partecipato e abbiamo fatto tra l'altro anche la selezione presso i nostri sud in Toscana e precisamente in Versilia veramente un'esperienza ottima un'organizzazione veramente senza problemi vari musica che incontra l'aspetto sociale un connubio vincente ma ovvio praticamente quest'anno ci hanno proposto di fare una raccolta fondi per noi per una squadra nuova che è nata di basket in carrozzina i Condor che poi siamo nati dalla fondazione di Angelo Del Rigo quindi è una squadra che sta nascendo ha bisogno di contributi per poter andare avanti specialmente per l'acquisto delle carrozzine domani potrebbero registrarsi dei disservizi nella distribuzione idrica a Ragusa disagi che saranno causati dai lavori di manutenzione dell'Enel che sostenderà l'energia elettrica a partire dalle 8.30 fino alle 13 all'impianto di sollevamento San Leonardo per eseguire lavori di manutenzione le zone interessate sono San Luigi Viale delle Americhe Brusce Cisternazzi Ibla e il centro storico di Ragusa superiore non ci sono ulteriori aggiornamenti grazie per averci seguito vi auguro una buona serata arrivederci a domani